Volevo salutare il nostro campione in carica Tony D'Amenfi, ma non per celebrare la sua capacità di indovinare i titoli di canzoni, ma semplicemente perché alle ore 3 e 40 di questa notte è nata la creatura, come si chiama la creatura? Alessio, si chiama Alessio, si chiama Alessio, è nata la creatura e quindi probabilmente oggi Tony D'Amenfi non potrà partecipare al gioco, però ci è venuta un'idea, siccome da tempo Rudy Zerbi ha chiesto di poter essere concorrente, oggi magari potremmo metterlo alla prova. Allora, se è vero, mi confermate che il bambino di Tony D'Amenfi si chiama Alessio? Sì, sì, è vero, è vero, Aldo. Io non lo so. Non lo sai? Non lo so. Fingi di saperlo? Sì, si chiama Alessio. Alessio, benissimo, pensate che oggi, proprio per questa occasione, abbiamo scelto di oprire la puntata con una canzone che ascoltiamo insieme per la prima volta, il nuovo di Alessio. Che non è Alessio, ma ci assomiglia. Oggi il nostro campione in carica, avendo avuto questa notte un figlio, è nato il bambino, chiaramente il lavoro grosso l'ha fatto sua moglie, per cui giustamente ha chiesto di poter essere assente, il figlio l'ha chiamato Shazam, se non ho capito male. E quindi, e quindi, dato che venerdì 3 febbraio è il compleanno del nostro collega e amico Rudy Zerbi, abbiamo pensato che fosse il momento di avere lui come super concorrente. Eccolo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, ma grazie. Ed è solo l'inizio, eh? Ma grazie, ma grazie. Pensa stasera quante volte te la canteranno. Eh, tante, tantissime, sono emozionato, soprattutto di sostituire il campione in carica, devo dire. Tu hai detto, ti sei candidato l'altra volta, hai detto che saresti stato in grado, chiaramente se vincerai non vale, eh? Cioè, si finisce qui, è un episodio, è una cosa simbolica. Ah, non ho speranze. No, non puoi sfidare il campione in carica, perché tu sei uno del cast, dello staff, della crew. Ti presento il tuo sfidante, Rudy. Sì, 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 sono pronto. È di Silvi Marina, provincia di Teramo, e si chiama Alessio. Pronto? Ciao, ciao Alba. Ciao Alessio, ti presento Rudy. Alessio e Rudy, tanti auguri. Ah, grazie. Io sono, in questo momento, sono competitivo e quindi ti voglio spaventare, voglio metterti già anzi, capito? Bravo, bravo. Voglio vincere. No, ma non ce l'hai bisogno, eh. Ce l'ha già l'ansia, ce l'ha già. Ah, voi ce l'ha. Allora, devo vincere. Allora, come sapete, questo gioco è dedicato a coloro che credono di essere intenditori di musica dance recente e hip hop. Sì. Cioè, non è un gioco per tutti, cioè non ci sono tutti i generi musicali. Siamo partiti da qui e qui vogliamo rimanere. Io non so, tu Rudy, sei molto esperto di musica, però su questo tema non so quanto sei ferrato, eh. Sono abbastanza, posso dire la verità, sono una fitta mortale, ma ho un telefono con Shazam pronto qui accanto. No, non vale, eh, no, bello, eh, giovane. E allora? Ma radio scelta. Allora, io... Posso chiamare i campioni in carica e disturbarlo? No, no, non c'è tempo, dai, non c'è tempo, facciamo in fredda. Che parola hai scelto per prenotarti, Rudy? Per me no. Per te, no? Quindi tu per prenotarti dirai, per me no! Per me no. Ok. Tu invece, Alessio? Io? Sì. Cioè? I claxon? Bravo! Ma tu sei autista di lavoro? Sì. Che cosa guidi? È il tiro. Ah, un tiro. Va bene. Eh, va bene. Allora, se siete pronti, io andrei con la prima canzone. Andiamo, andiamo. Via! I want to make a change. Per me no! Questa l'abbiamo messa per te, Rudy, eh? Era un fuori programma, lo sai, vero? Ma non sono tutte così. No, no, le altre sono più difficili. Michael Jackson, Man in the Mirror. Bravo, bravo. Che per me è la canzone più bella di Michael Jackson. Hai ragione. Tu cosa dici? È sicuramente una delle più belle, ma forse la più bella. Forse la più bella. Forse la più bella. Sì, sì. Allora, Alessio? Eh, è bonifico, ma arriva dopo, ma è tu che fai vincere Rudy. Hai truccato il gioco, non lo sapevo. Andiamo con la seconda canzone. Vai. Per me no. Si prenota Rodolfo, da Roma. Diamond, Rihanna. Bravissimo! 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 Non era stato avvertito, eh, ragazzi. Non è un magna magna, eh? Benissimo, quindi due punti per Rodolfo da Roma. Vediamo con la prossima canzone. Orca, orca, orca. Fighissima questa. La so, la so. La so, la so. La so, la so. E' pure io. I can't wait for the weekend to begin. Siete due somari. I can't wait. Non la sapete? Eh, esatto. Vergogna. Era Michael Gray con The Weekend. The Weekend. No. Eh sì, eh sì, eh sì. Non veniva. Vabbè. Allora è il momento di... Vabbè, avrebbe già vinto Rudy, eh? Eh sì, eh sì, però dai. Un'ultima canzone. Cioè, ma non possiamo evitare l'ultima figuraccia? No. Alessio, Alessio. Sono d'accordo con Rudy. No, ma mi sembri un po'... Concordo pienamente a metà con lui. Alessio, tu hai partecipato così per immagine, non è che... No. Ho detto, l'Iban ce l'hai, quindi fa posto, quindi... Eh sì, va bene. Per me la giornata è stata l'andata. Allora, sentiamo l'ultima canzone hip-hop. Vabbè, questa... Questa la lascio... No, l'ha parlato con un altro collega che ha prontato al posto mio. Ti sei prontato, Alessio? No, l'ha parlato con un altro collega che fa solo e che mi ha suonato. Ah, ok. Cioè, tu non sapevi niente? Cioè, neanche una ne ha azzeccata Rudy? Questa la so. Chi è? Questa è quella che fa... Eh, ma questa la sappiamo tutti, però è il titolo che vogliamo sapere, bello. Sto emozionato, Alessio. Vabbè, era Basta Rimes, Mariah Carey, I know what you want. Sì, sì. Va bene, ragazzi, grazie. Vince Rudy a mani basse. 2-0. Complimenti. Buon compleanno. Buon compleanno. Grazie a tutti, ciao Alessio. Ciao, grazie.